Lì di balneari sempre più sostenibili a Marina di Camerota, dopo aver reso accessibile ai diversamente abili tratti di arenile, l'associazione Balneari Camerota dota la spiaggia di sedie job, carrozzelle che consentono ai disabili di fare il bagno. Sono cinque e sono state consegnate ad altrettante strutture dalla presidente dell'associazione. Daremo in comodato uso gratuito le carrozzelle job agli associati della cab, andremo a dislocare laddove ci sono gli accessi garantiti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, metteremo a disposizione dell'utenza sia delle spiagge libere che delle spiagge in concessione queste carrozzelle. Andremo ad implementare un servizio che molti concessionari hanno già offerto, ma adesso andremo a tamponare quelle piccole criticità che avevamo registrato all'interno delle spiagge del Comune di Camerota. Intanto a Marina di Camerota si rafforza ulteriormente la collaborazione tra operatori balneari e la prestigiosa stazione zoologica Anton Dorn, a tutela della nidificazione della tartaruga Caretta Caretta. Nella cittadina riverasca si è tenuto un incontro di formazione scientifica per meglio far comprendere come intervenire quando si avvista una tartaruga sulla spiaggia. Da quest'anno cercheremo di potenziare ulteriormente la nostra presenza sul territorio per individuare e proteggere adeguatamente tutti i piccoli, cercando di superare i già eccellenti risultati ottenuti nella scorsa stagione. Grazie ai biologi della stazione zoologica Anton Dorn abbiamo promosso una serie di azioni, di formazione per i nostri imprenditori del settore balneare, che adesso sempre più sono attenti a quelle che sono le tracce di risalita mattutine della Caretta Caretta.